In pratica è definito un po' l'uomo di Ruggeri, cosa si prova in questo momento difficile? Sì, sono entrato effettivamente così, come la sua emanazione fisica in questa società. Le cose dal punto di vista relazionale sono decisamente cambiate, parlo proprio in termini personali, per cui, come dicevo Pocanzi, non credo negli Yes Men e non sono tale, alla luce di quello che ho potuto vedere con i miei occhi, quindi non è questione qui di seguire una voce da una parte o dall'altra, ma di vedere con i miei occhi. Le mie opinioni sono cambiate e quindi Yes Men no. Che idea ti sei fatto di questa persona? Avevi già collaborato prima con questa persona? Sì, avevo già collaborato prima con questa persona, proprio perché una serie di promesse, di progetti, di pensieri, di obiettivi si muovevano in maniera, diciamo non proprio lineare, diciamo non proprio consona a quello che io personalmente gradisco a livello professionale, la collaborazione è durata qualche mese e pacificamente si è interrotta di mia spontanea volontà. Sei fidato due volte però, quindi è bravo a convincere? È vero che mi sono fidato due volte, devo dire anche che non sono stato l'unico, ma non questo per sgravare o giustificarmi, è anche vero che diciamo io mi sono trovato in una situazione lavorativa o meglio non lavorativa, proficua da questo punto di vista e gli obiettivi posti da Ruggeri stesso erano molto interessanti, il programma che peraltro in prima persona ha sviluppato era effettivamente interessante, gradevole, piacevole e coinvolgeva la città oltre che la squadra e la società, i presupposti erano veramente interessanti professionalmente e per la cittadinanza e per la squadra a livello sportivo.